L'Egitto non riesce finora a pesare sul processo di pace. Il suo grande strumento era riuscire a raggiungere un accordo, a far raggiungere un accordo tra le fazioni palestinesi, tra Hamas e Fatah. Non c'è riuscita, le trattative sono fallite clamorosamente e probabilmente si andrà a delle elezioni un po' a farsa a gennaio in cui voterà solo una parte dei palestinesi, quelli che stanno in Cisgiordania, non voteranno quelli che stanno a Gaza e non voteranno quelli che stanno a Gerusalemme perché Israele non li lascerà votare. Questa ovviamente è una grave sconfitta per gli egiziani e l'unica soluzione probabilmente sarà che si coinvolgeranno gli altri paesi arabi, dal Qatar che ha dimostrato buone possibilità, buone capacità negoziali, alla Siria, alla Turchia. Si arriverà a un accordo da quel punto di vista? Ne dubito. La recente visita di Hillary Clinton è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché non solo questa visita ha mostrato come non ci sia una sostanza e una voglia anche di insistere maggiormente sul processo di pace. Addirittura Hillary Clinton ha parlato davanti a Netanyahu di concessioni unprecedented cioè in maniera molto positiva quando di fatto le concessioni che Netanyahu ha fatto, se si può parlare di concessioni sono delle briciole rispetto a quello che addirittura Olmert per esempio aveva già proposto agli arabi, in particolare appunto ai palestinesi e a Boumazen durante la conferenza di Annapolis del novembre 2007. Esistono piani di pace già dettagliati fino ad esempio gli accordi di Ginevra del 2003, sono un accordo di pace dettagliato, qualche mese fa è uscito anche un annex degli accordi di Ginevra con tutte le questioni più spinose, Gerusalemme, il diritto di ritorno dei profughi, gli insediamenti eccetera eccetera quindi tecnicamente non è che non esistano delle soluzioni, è che politicamente in questo momento non esistono le soluzioni. Siccome politicamente bisogna passare per l'opinione pubblica israeliana perché detiene il monopolio del potere in quella regione purtroppo e quindi anche questo è un confronto asimmetrico, è probabile che ci possa essere la chiave di volta di un nuovo processo attraverso un nuovo confronto con l'Iran. Malgrado l'impasse nella politica interna palestinese il ruolo della Turchia potrebbe portare ad una svolta nonostante il fallimento della trattativa con la Siria sulle alture del Golan e un ruolo ancora maggiore potrebbe averlo in Iran strategicamente alleato degli Stati Uniti. Certamente la Turchia sta rientrando in Medio Oriente, lo sta facendo da diverse porte in realtà la Turchia abbiamo seguito la mediazione turca tra Israele e la Siria, una mediazione nascosta una mediazione che pur non avendo sortito gli effetti di pacificazione desiderati ha comunque aperto un canale molto significativo anche perché avviene proprio da un paese che da sempre ha avuto legami molto stretti con Israele e invece un rapporto abbastanza conflittuale con la Siria e che invece sta rivalutando proprio la propria dimensione medio orientale. Quindi la Turchia oggi è ancora di più un ponte tra Europa e Asia, Europa e Medio Oriente e in questo senso dovrebbe anche essere sfruttata meglio dagli europei che purtroppo in questa partita di cui stiamo parlando non stanno svolgendo un ruolo determinante. L'Iran va letto come un corpo estraneo all'interno della regione in cui è inserito geograficamente. Da un punto di vista etnico, religioso e anche politico e sociale l'Iran è un paese a sé stante circondato da un insieme geografico e sociale invece più o meno omogeneo, un contesto religiosamente assimilabile nell'ambito della regione sunnita, economicamente assimilabile ad un più o meno omogeneo sistema di sviluppo economico e da una società più o meno assimilabile ad uno stesso omogeneo tratto comune. L'Iran è invece l'elemento di differenziazione, è un elemento completamente a sé stante rispetto a tutto il contesto e quindi è sempre stato un elemento di turbativa di quelli che sono gli equilibri del mondo arabo all'interno della regione. È stato contenuto nelle sue ambizioni e nelle sue prerogative di sviluppo di politica regionale dalla presenza quasi ininterrotta nel corso degli ultimi secoli di avversari regionali particolarmente forti. In modo particolare nel recente passato la forza di contenimento all'Iran sono sempre stati ovviamente gli Stati Uniti dopo la rivoluzione, ma soprattutto la presenza di un ben armato e ben strutturato Iraq e la presenza di un Afghanistan completamente instabile, ma dominato da formazioni alquanto agguerrite e particolarmente difficili da combattere. Quindi l'Iran ha avuto una matrice della minaccia e dei rischi nella regione con la quale ha avuto a che fare per molto tempo, dovendo investire enormi risorse per contenere il rischio. Successivamente al 2001 queste minacce sono state sostanzialmente cancellate dall'intervento americano. Non esiste più l'Iraq, non esiste più l'Afghanistan come minaccia, sono rimaste sparute minoranze all'interno di queste regioni che fanno della politica regionale il proprio vessillo, ma sono sostanzialmente interessi legati a conflitti microetnici piuttosto che microreligiosi, oppure abbiamo sostanzialmente una minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata che nell'area è particolarmente numerosa ed efficace. L'Iran ha quindi oggi potuto sviluppare sostanzialmente in contrastata la propria espansione da un punto di vista di egimonia regionale, diventando a tutti gli effetti un attore non trascurabile nella regione del Golfo Persico. L'ascesa dello sciismo politico e quindi dell'Iran, che come potenza sciita, ha potuto immediatamente superare muri e fare appello alle minoranze sciite forti, ci sono in Arabia Saudita e in Libano, alle maggioranze sciite, fino ad allora rimaste minoranze politiche dell'Iraq e del Bahrain, e tutto questo ha costruito una rete informale sul territorio che ha fatto di entrare l'Iran la vera grande questione del nuovo Medio Oriente. La Siria rappresenta un attore fondamentale perché è l'attore che con più forza oggi all'interno del mondo arabo, visto che l'Iran non appartiene al mondo arabo, porta avanti in maniera molto determinata la propria lotta a favore dei palestinesi e contro Israele. di fatto è il paese che non ha ancora instaurato nessun tipo di relazioni con Israele, che attende di vedere normalizzati i rapporti però sulla base di un specifico accordo che parla appunto della restituzione delle alture del Golan, quindi è un attore, è un paese che è direttamente coinvolto in questo scacchiere. Il ruolo della Siria deve essere visto però anche alla luce dell'evoluzione interna del paese e soprattutto della stabilità almeno in superficie del regime di Bashar al-Assad. Fino a quando non ci sarà un cambiamento di regime in Siria possiamo star certi che quelle che sono le sue posizioni di politica estera non cambieranno. Non cambieranno sia nei confronti del rapporto con l'Iran che rimane un interlocutore fondamentale ma non soltanto dal punto di vista ideologico, proprio appunto ciò che li unisce, questa identità abbastanza forte e l'inemicizia diciamo nei confronti di Israele, nei confronti della politica che Israele sta portando avanti nel Medio Oriente in quanto appunto nemico fondamentale ma proprio anche interessi molto pratici, molto concreti, interessi di natura economica che fanno sì che questa alleanza sia abbastanza indissolubile. Nel 2003 Bush diceva che la strada per Gerusalemme passava per Bagdad. Io penso che questo non fosse vero allora ed è dimostrato nei fatti che non è stato così. Io penso che invece passa per Teheran per tutte queste ragioni. Certo c'è da dire che in questo momento c'è un problema interno anche a Israele da parte della figura di Obama che ha preso il premio Nobel, ha una certa attenzione, ha risvegliato una certa attenzione verso l'America da parte delle opinioni pubbliche arabe, non benevolenza ma attenzione, ha un problema in Israele, solo il 5-7% del pubblico israeliano mostra di avere fiducia nelle sue capacità ed è l'unicum nel mondo. Alla conferenza gestita a Washington torna a un certo punto in un panel a cui ho partecipato sull'Iran, sulle consigli a dare Obama nel rapporto con Israele e sono detto ma aiuterebbe una visita di Obama così come fece Sadat e un discorso come quello fatto al Cairo in Israele? La risposta è stata sì. Ecco io credo che più che non solo è un'idea ma credo che sia un'idea concreta al lavoro all'interno dell'amministrazione per una visita di Obama da presidente e non più da candidato come è stato che è andata benissimo perché c'è un bisogno di stabilire un rapporto diretto con un'opinione pubblica tanto più spaventata quanto più forte e tentata da rinchiudersi nel proprio forte potere dello status quo. Il successo del presidente Obama nella trattativa con l'Iran disinnescherebbe la minaccia del nemico mortale agli occhi dell'opinione pubblica israeliana aprendo così le porte al processo di pace. Anche per questa puntata abbiamo finito. Io vi ricordo che le puntate di Global Watch si rivedono sul sito di Red e potete scriverci all'indirizzo mail che vedete.